Ascoltate bene, Spider-Man 3 su 3. Oltretutto io lo voglio ringraziare perché una persona così grande, di cuore, mi ha fatto quattro messaggi personalizzati per quattro bambini che portano le mutande di Spider-Man, mutanda di Spider-Man. Il nipotino di una mia amica Lorenzo è rimasto a pianto dalla felicità. Mamma, ma Spider-Man è tutto per me? Allora attenzione perché Spider-Man mi ha regalato tre numeri a me e ad Andrea che c'è da mettersi a piangere dalla felicità perché dice che esce il 90. Io faccio vedere il video e lo ringraziamo perché una persona così grande e speciale doveva arrivare proprio per Fascino TV. Un regalo importantissimo. Fai il videomessaggio di Spider-Man. Tutto pubblico di Fascino TV e tutte mamme e bambini, una serena Pasqua, tutti pubblico e ho dato tre pesosissimi numeri alla Paola per il terno della Pasqua che ci saranno tantissimi regali e soprattutto seguitemi la Paola e tutto Fascino TV. Vi voglio bene e saluto qua il ragazzo che vi vuole vedere ragazze. Donne, quel ragazzo è il lottologo d'Italia! Quel ragazzo dice che quel ragazzo ha 70 ali perché lo trovate non è un fantasma eh! Weh, Spider-Man su TikTok esiste eh! Non è un fantasma eh! È una persona che pensate cosa fa per far venire un sorriso! Pensate cosa fa! Ma è tremendo perché coi numeri è tremendo! C'è il terno di Pasqua che regala col 90 e attenzione perché...